Ciao a tutti, condivido brevemente una riflessione sulla natura umana. Tutti noi abbiamo i propri pregi e difetti e in larga parte siamo consapevoli di quali siano. Magari non ci piace ammetterlo pubblicamente, magari non li ammettiamo pubblicamente, però sappiamo quali sono i nostri punti forti, i nostri punti deboli. C'è però una cosa che tutti noi crediamo di avere, siamo profondamente convinti di avere il buon senso. Il buon senso non manca a nessuno, se lo chiediamo alla persona stessa. E le persone di buon senso sono sempre quelle che sono d'accordo con noi o che ragionano come noi. Un po' curioso questo, no? E siamo convinti che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti usassero il buon senso. Ecco, avete mai incontrato voi una persona che magari, tutti noi abbiamo i nostri difetti, magari li riconosciamo, a volte anche pubblicamente, ma voi avete mai trovato una persona che sia convinta di non avere buon senso? Che ammetta di non avere buon senso? È una cosa un po' strana, no? Magari noi siamo arroganti, magari non siamo bravi nella matematica, magari non siamo bravi a disegnare, magari non siamo bravi negli sport, magari non ci capiamo niente di politica, di economia, eccetera, ma tutti abbiamo il buon senso. Fa un po' ridere questo. Ecco, vi lascio con questa considerazione, fatene quel che volete. Ciao, ciao, buona giornata.